Siamo con Mr. Visciglia, allora 3 a 0 contro l'Olympic Rossanese, sicuramente un tasso tecnico diverso, contro la sua squadra c'è poco da fare per questa capolista che ha meritato questa vittoria. Ma senz'altro, nel primo tempo anche se abbiamo giocato per 20-25 minuti non abbiamo demeritato, purtroppo gli episodi ci hanno penalizzato, la Rossanese ha degli uomini sicuramente che sono di categoria superiore, quindi il primo tempo è già stata chiusa la partita nonostante un primo tempo della mia squadra che non è che abbia demeritato. Poi al secondo tempo è normale che quando trovi una squadra, una squadra capolista, una squadra dove c'è anche in panchina, io in panchina c'avevo soltanto il 2001-2000, quindi fai fatica pure a fare un cambio, a cambiare l'assetto tattico, quindi purtroppo è andata così. Nel primo tempo abbiamo visto una gara a tratti anche equilibrata, voi siete stati bravi a non scomporvi, anche dopo il primo gol avete continuato a non lasciare troppo spazio, però poi sul 2-0 secondo me, intorno al quarantesimo del primo tempo, non dico che si sia chiusa la gara, però dal punto di vista mentale l'Olimpic ha dimostrato di avere qualità e anche testa. Ma ripeto, il primo tempo nonostante il gol che abbiamo subito subito, la partita era equilibrata, è stata anche a sprazzo una buona gara dei miei ragazzi. Ripeto, quando poi dopo vai a 2-0 su un calcio d'ango, su un episodio, ho lasciato un uomo come Granata, che è un saltatore di testa, ho lasciato libero di saltare tranquillamente, è normale che poi fai fatica a riprendere la gara, però per noi non sono queste qui le gare che dobbiamo vincere per la salvezza, di sicuro sono quelle in casa e quindi dobbiamo cercare di fare di tutto per portare i tre punti, quelli casalinghi. Sicuramente ennesima buona prestazione della sua squadra, è passata in vantaggio subito con Salandria, poi a fine primo tempo il gol ormai solito di Granata, nel secondo tempo Giovanni De Giacomo. Era anche dura secondo me mantenere la concentrazione nel secondo tempo, però ci siete riusciti, perché la Garibaldina ha fatto la sua onesta gara, però obiettivamente il tasso tecnico era anche diverso, ma siete riusciti a non subire gol, a giocare sempre, sta facendo esordire tanti ragazzi, credo che siano tante le note positive. Sono contentissimo per l'approccio che abbiamo avuto oggi alla partita, non era facile perché magari qualcuno poteva pensare già domenica prossima il derby con l'ASD rossanese, però penso che abbiamo fatto un'ottima prestazione, non abbiamo rischiato mai niente, siamo stati sempre in partita, abbiamo fatto tre gol, ne potevamo fare qualcuno in più, sono molto contento, sono soddisfatto soprattutto dei giovani che stanno giocando, oggi Cristian Morrone ha fatto un'annissima conferma con un'ottima prestazione, quindi sono molto contento, sono contento soprattutto per il gol di De Giacomo, è ritenuto al gol, abbiamo mostrato che può fare questa categoria, la può fare alla grande, ma su questo non avevo dubbi, quindi va bene così, andiamo avanti, partita per partita. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.